Ti spiego GIMP in 10 minuti. Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi affronterò una sfida, quello di spiegarvi GIMP in 10 minuti. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di foto editing preferito GIMP, link in descrizione per il download. Ragazzi, spiegarvi GIMP in 10 minuti ovviamente è assolutamente impossibile, ma proverò a spiegarvi tutte le basi di questo programma per farvi capire se GIMP possa fare il caso vostro e vi assicuro che GIMP farà il caso vostro. Troverete in alto a destra continuamente dei link a altri miei video nel canale che sono ovviamente dei approfondimenti per i vari argomenti che io toccherò in questo video. GIMP ragazzi è un programma open source gratuito di foto editing completamente alternativo a Photoshop, di immagini raster, quindi se noi andiamo a fare uno zoom su questa foto cosa vuol dire? Vuol dire che sono immagini create da tanti piccoli pixel, vedete, che GIMP vi permette di andare a modificare ad uno ad uno o ovviamente in gruppi e questo significa che è un programma di foto editing molto molto potente che vi permette di fare, oltre a creare e modificare come volete le vostre foto, anche a creare delle foto artistiche. Come si scarica GIMP? Andiamo su gimp.org, come vi dicevo il link in descrizione per il download, vi aprirà questa pagina, vedete GIMP, acronimo di GIMP Image Manipulation Program. Qui ovviamente avete il programma di download, il tasso di download, scarica la versione corrente che era 2.10.32, il sito di GIMP ovviamente rileverà in automatico il vostro sistema operativo e vi farà scaricare la versione compatibile. Quando voi lo avete installato ragazzi, l'interfaccia, diciamo vi troverete questo tipo di interfaccia, troverete in alto un menu ovviamente nel quale potete andare a fare determinate selezioni e andare a fare ad esempio un file apri, come io ho aperto, ho fatto per aprire questa immagine. Vi troverete qui i vari strumenti molto molto importanti perché sono la base di GIMP, ovviamente con cui voi potete andare a modificare, creare, trasformare la vostra foto. Qui in basso troverete il pannello delle opzioni, dello strumento che avete selezionato, ad esempio il pannello, vedete che si apre il pannello con gli strumenti. Qua avete invece sulla destra in alto un pannello con altre tipologie di opzioni, che possono essere il pannello, vedete la tipologia di pannello e altri. E in basso trovate, io per comodità metto sempre la scheda dei livelli, che poi vi spiegherò cosa sono. Ovviamente ogni scheda ragazzi potete andare su questa freccettina in alto a destra e fare un stack a scheda e potete andarla a configurare come meglio preferite. Se ragazzi volete l'interfaccia come la mia, uguale per seguire i video con la stessa mia interfaccia, ragazzi dovete andare su modifica, andate su preferenze e qui in pannello strumenti togliete il flag da usa i gruppi di strumenti perché normalmente quando li installate li troverete raggruppati e sempre in modifica preferenze andate su tema e utilizzate il tema dark, che è quello scuro, e su tema icone utilizzate la color per avere le icone a colori e come dimensione la grande. Tutti i programmi di foto editing avanzati, tra cui GIMP, si avvalgono di due concetti fondamentali. Uno è il concetto di livello, quindi prendo ad esempio un'altra immagine che ho e la vado a mettere qui sopra. Lui vedete che qui nel pannello dei livelli di cui vi ho già parlato me lo va a mettere esattamente sopra, vedete? Come una pila di fogli uno messo uno sopra l'altro, quindi se vado a togliere questo sotto mi farà vedere quell'altro. Questo ragazzi ci permette di fare dei progetti avanzati, infatti se io vado a creare un nuovo livello, vedete, creo livello trasparente con questo tasto, e io vado ad esempio a dipingere, vado a dipingere sopra, vedete? Io in realtà non sto dipingendo su questa immagine, ma su un suo livello a se stante e questo ragazzo ovviamente mi permette di, vedete se io sbaglio qualcosa, di andare a cancellare e lui mi riporta tranquillamente alla situazione iniziale. Questa è la base ragazzi del photo editing. Altro concetto fondamentale, molto importante, è quello di maschera di livello, che Gimp ovviamente vi permette di fare, quindi tasto destro, aggiungi maschera di livello, mettiamo in questo caso bianco, capacità completa, vi permette di fare cose di questo genere, del tipo voi andate a pitturare, vedete che vi rivela il livello sottostante, vedete con il nero, mentre se io vado a dipingere con il bianco mi rivela il livello soprastante, mi va a coprire quello sotto. Questi ragazzi sono concetti che, una volta che voi avete preso confidenza con questi ovviamente strumenti fondamentali, in maniera molto semplice potrete fare delle modifiche avanzate ai vostri progetti. In alto a sinistra trovate i vari strumenti divisi ad uno ad uno, come abbiamo visto, tra cui strumento di selezione rettangolare, nel quale si va a selezionare parte dell'immagine e le modifiche andranno fatte solamente in quella parte selezionata. Oppure abbiamo i vari strumenti di trasformazione dell'immagine, ad esempio strumento ruota, quindi si ruota l'immagine, strumento di scala, quindi ci va a ridimensionare l'immagine stessa, o strumenti più avanzati, tra cui ad esempio lo strumento tracciati attraverso l'ausilio di questi nodi, quindi possiamo fare delle selezioni molto accurate, vedete che possiamo modificare i nodi a piacimento, andiamo a cliccare invio che ci seleziona, andiamo a fare tasto destro, aggiungi canale alfa, qui c'è già, e andiamo a fare un seleziona inverti, il canale alfa è il canale ovviamente della trasparenza, facendo inverti ci seleziona quello che non abbiamo selezionato, quindi questa parte esterna, cliccando su cans, una delle funzioni principali, è quella ovviamente di rimuovere lo sfondo e quindi scontornare l'immagine. Torniamo indietro, abbiamo poi un altro strumento fondamentale, che è quello ovviamente avanzato di testo, quindi scriviamo un nostro testo, vedete che abbiamo vari font, varie opzioni, e vedete che ci crea ogni volta un livello all'interno del testo, per cui possiamo andare tranquillamente a modificarlo, o ad eliminarlo, come in questo caso. Altre regolazioni, ad esempio altre funzioni, sono quelle che trovate qui nel menu colori, ad esempio di curve, molto molto utilizzate, nel quale potete andare a regolare la luminosità e il contrasto attraverso l'utilizzo e la regolazione dei bassi toni e degli alti toni, oppure ad esempio, sempre in colore, andiamo in saturazione, nella quale possiamo andare o ad aumentare l'intensità del colore, o a toglierli e far diventare l'immagine, un'immagine in scala di grigi. Gimp, come tutti i programmi di foto editing, si avvale di numerosissimi filtri, li trovate qui nel menu filtri, tra i più utilizzati le sfocature, le sfocature gaussiane, nella quale andate veramente a sfocare l'immagine secondo varie gradazioni, oppure anche filtri miglioramento, nitidezza maschera di contrasto, con il quale voi ovviamente andate, vedete a modificare la nitidezza dell'immagine e con dividi vista su ogni filtro potete ovviamente vedere il prima e il dopo in tempo reale. Avete anche ragazzi, ad esempio creiamo questo testo, ovviamente io lo rendo visibile perché l'avevo già creato, abbiamo anche numerosissimi filtri per quanto riguardano luce e ombre, ad esempio filtro di ombra lunga, colore nero, vedete che potete applicare, vedete, delle ombre tranquillamente in un attimo alle vostre immagini. Abbiamo poi anche, ragazzi, la possibilità di installare più di 500 filtri completamente gratuiti andando su gmic.eu, vedete, gmic è un contenitore di filtri, potete scaricare la versione per Windows e lui vi installerà qui all'interno di questo menu altri 500 filtri simili a questi ma anche implementandoli sia come quantità, sia come tipologia e anche come personalizzazione delle opzioni. Una volta, ragazzi, che avete terminato il vostro progetto, andiamo a rendere visibile di nuovo questo livello. Supponiamo di avere terminato il nostro progetto così, possiamo andare a salvarlo, quindi salva o salva come lui ci salverà nel formato proprietario di gimp che è il .xcf, vedete, e andandolo a riaprire ci riaprirà il progetto cioè con il dettaglio ovviamente delle modifiche e dei livelli che abbiamo fatto. Possiamo poi ovviamente andare anche ad esportare quindi file esporta in questo caso ovviamente ci salverà, avremo la possibilità di salvare, vedete, nei formati ovviamente più comuni quindi sia che sia jpeg sia che sia gif o anche png, vedete, se abbiamo una trasparenza quindi uno sfondo ad esempio trasparente e vogliamo mantenere il canale della trasparenza nella nostra esportazione. Ragazzi, ho terminato questa panoramica su Gimp, credo di essere stato all'interno di 10 minuti e spero di essere stato il più esaustivo possibile per quanto si possa essere in così poco tempo. Ragazzi, se vi è piaciuta l'idea di imparare questo meraviglioso programma vi invito ad iscrivervi al mio canale perché all'interno del canale trovate più di 140 video completamente ed interamente dedicati a questo meraviglioso programma. Noi ragazzi ci diamo appuntamento al prossimo video e io vi saluto. Ciao e grazie a tutti.